Succo di frutta in euro Questo viene dalla Danimarca Danese? Sì, Danimarca Formaggio olandese Tedesco Questo è Nestlé svizzera Svizzera Tutti i paesi europei Sono rifiuti visti È un esempio di traffico di rifiuti illegale Questi sono molto giovani Avranno 9 o 10 anni Loro raccolgono la plastica dalle strade È appena successo a Borsa È il decimo di questo mese Hanno bruciato tutto Lo senti dall'odore? Sì, è terribile Qui e laggiù Vedi? 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 Grazie.